E' arrivato il momento di svappare, svappo me! E' arrivato benissimo tu, un grande torneo che mette in risalto i giocatori, soprattutto campani, che hanno molto talento, un torneo organizzato bene dove ci sono squadre che vengono da fuori, come vedi professionisti come Milan, Lazio, Sampdoria o altre squadre di paesi nordici che vengono a confrontarsi con realtà diverse. E' un appuntamento importante, per noi a detti lavori è una grossa sacca dove poter pescare, è un appuntamento anche dove ci sono tutti i dirigenti delle grosse squadre, dalla Juventus al Milan, alla Lazio, alla Sampdoria, all'Atalanta, ho visto molti capi cosiddetti per il settore giovanile e c'è anche uno scambio di opinioni, di idee. Il mio augurio è che questo torneo duri a lungo, poi quando si viene assorretto si viene sempre col sorriso per il sole, il mare, è un motivo in più per l'organizzazione, creare questo torneo e cercare di seguirlo in massa. Simone, la ricetta e il segreto di aver costruito a Benevento un qualcosa che ora è da invidiare in regione ma anche in ambito nazionale perché il settore giovanile del Benevento veramente è un fiore all'occhiello. Ma noi abbiamo la fortuna di avere un grande presidente che ci permette di lavorare in serenità e ci dà le risorse giuste, morali, economiche per poter fare un buon lavoro, noi cerchiamo nel miglior dei modi di sfruttare questa occasione, di portare i migliori giovani campani nel Benevento e di cercare di fare una buona figura.